Paolo Dalmolin esordisce qui, c'è appena stata una cosa straordinaria nel senso che Rasul Dabo e qui Paolo Dalmolin si tira via dritto, Paolo Dalmolin merita che si indugi su di lui così per la regia medaglia l'anno scorso ai campionati europei di Gothenburgo, eccolo qui l'Alessandrino ed è una batteria non facile partito più controllato rispetto al passato, sbaglia il primo ostacolo ma poi viene via veloce ma attenzione perché non semplice, questo è un tempo che gli darà presumibilmente ripescaggio ma da lì è rimasto un po' tutto indietro ecco il risultato